Musica Buonasera cari amici, bentornati. Ogni settimana un tema diverso, ogni settimana Forum Economia cerca di scandagliare l'attualità con ospiti e voci autorevoli che possano analizzare insieme a noi e insieme soprattutto a voi che ci seguite. Ogni settimana un tema diverso, oggi cerchiamo, lo vedete in grafica, di capire come la giovane imprenditoria abbia un ruolo sempre più preminente in questa epoca già definita di post pandemia e quali possono essere gli sguardi al domani. Lo facciamo con due ospiti al femminile, finalmente anche sono totalmente attornato da donne, la presidente del gruppo giovani di Appindustria Confini Mantua, Anna Suppino, buonasera. Buonasera Benvenuta, prima volta credo a Forum Economia, giusto? Sì, primissima volta. Con lei c'è la consigliera, è imprenditrice, ma consigliera di Appindustria Confini Mantua, Elena Costa, buonasera. Buonasera. Allora, due voci a femminile ma due voci giovani. Io in apertura do sempre dei dati per contestualizzare il tema d'attualità. Abbiamo recentemente anche nel telegiornale raccontato come il passato più recente ci stia dando dei positivi spunti, possiamo definire positivi, sulla ripartenza post-Covid. In termini di lavoro autonomo, la mole di partite IVA a livello nazionale e a livello provinciale è tornata, dopo anni difficili anche precedenti al Covid, a crescere. Sono in totale più di 5 milioni in Italia e soprattutto sono in crescita, come detto. Ci sono però delle categorie in termini provinciali che continuano ad avere difficoltà. Lo diciamo spesso da tempo, gli artigiani su tutti, do un dato, sono passati dal 2022 al 2014, cioè nel confronto di 8 anni si è calati di 3.300 unità, che corrispondono al 20%. Quindi anche nei dati positivi c'è un po' di chiaroscuro. Detto tutto questo, cerco di capire da chi vive l'imprenditoria come possono essere letti questi segnali positivi. anni difficilissimi, parto da Anna, alle spalle. C'è però la luce in fondo al tunnel? La luce in fondo al tunnel, secondo me, i motivi per cui potrebbero essere aumentate le partite IVA sono due. Una, che c'è ancora tanto entusiasmo da parte delle persone che hanno voglia di fare, di autorealizzarsi. Quindi la partita IVA è una strada per poter andare avanti e fare qualcosa di bello dal punto di vista professionale. L'altro motivo, secondo me, è proprio una necessità per le nuove figure imprenditoriali, diciamo proprio di partite IVA, perché comunque pensiamo ai social media manager, ai consulenti, ai professionisti, proprio anche io come azienda, diciamo, mi avvalgo di tante competenze esterne che non posso avere internamente. Quindi tutte queste figure, diciamo, per poter realizzarsi, per poter esserci, devono aprire una partita IVA. Scrivere anche la propria storia imprenditoriale è un punto di partenza, come diceva Anna. Elena, è, possiamo dire, un buon auspicio anche per il domani delle giovani e dei giovani imprenditori questo dato? Io credo che il Covid abbia segnato molti, molte aziende, molte imprese. E quindi questa ripartenza penso sia anche dovuta al fatto della voglia di riscattarsi, perché tanti hanno sofferto durante il Covid e tante aziende le abbiamo viste chiudere o comunque le abbiamo viste in notevole sofferenza. E quindi credo che questa ripartenza sia anche data dal fatto proprio di volersi rimettere in gioco e ritrovare una finalità in quello che si è andato un po' a perdere durante il Covid. Ci ha messo alla prova tutti, come singoli, come ovviamente occupazionalmente, economicamente parlando. Mi piace anche cogliere due spunti, il coraggio e la voglia di riscatto, che stanno dietro poi a dinamiche ben più ampie, che i numeri freddi talvolta non pesano. In tutto questo però siamo anche vicini alla festa della donna. Ho l'onore, il piacere di avere due donne imprenditrici e vi chiedo come può essere riletta oggi la figura al femminile dell'imprenditrice. Parto da Anna. Qui anche gli ultimi anni hanno visto evolvere in meglio, immagino, la figura. Diciamo che adesso la figura della donna è più presente in prima persona, perché comunque le donne hanno sempre lavorato, però che siano in prima persona, in prima battuta, è una cosa un po' nuovo, ma lo si può fare, nel senso che una volta c'è stato proprio un cambio di modo, di approccio. Paradigma. Sì, esatto. In questo modo qua, diciamo, le donne prima erano dei gregari, nel senso che, adesso faccio l'esempio anche della mia personale, mio papà quando ha cominciato come imprenditore ha cominciato insieme a mia mamma, però era lui l'imprenditore, ma lui senza di lei non avrebbe, cioè, avrebbe fatto come... Come spesso è, come spesso è, però figurava ufficialmente l'imprenditore maschio uomo e non figurava talvolta, non figura, spero di parlare al passato, l'imprenditrice donna, seppur determinante. Questo è un paradigma anche qui, un tabù scardinato. Sì, diciamo che le donne avevano questo ruolo di gregari, quindi quella cosa che si dice, no, che dietro a un grande uomo c'è una grande donna. È vero, nel senso che non erano in prima persona, ma dietro lavoravano, facevano parte della macchina per farla funzionare. Speriamo un giorno di poter dire il contrario, c'è un grande uomo dietro a una grande donna che sarebbe, come dire, l'equivalente normalizzato. Giovanissima anche la tua storia di inizio in azienda, Elena, anche tu, insomma, in un'azienda di famiglia, però ti sei messa in gioco molto, molto presto. Io sono... vengo da un ambiente prettamente maschile, perché io... la nostra azienda si occupa di carrelli elevatori, quindi è un mondo prettamente maschile, sia dal punto di vista imprenditoriale, ma anche dal punto di vista di recettore del fornitore stesso. E totalmente maschile, in ogni ambito, forse quello dove comunque resta, restava prima, la figura femminile, per lo più era negli uffici. Adesso invece mi rendo conto che la voglia di riscattarsi della donna, ma qui parlo anche del mio caso, è di non stare solo dietro una scrivania, ma anche proprio far vedere e dimostrare anche la possibilità che ha una donna, quindi non restare dietro le quinte, ma essere presente in ogni ambito, in ogni aspetto. E la difficoltà maggiore, se ti va di condividere, che hai avuto in quel dover scardinare quel totalmente genere maschile? È il fatto che il cliente molto spesso si trova davanti, quando si trova davanti a una donna, non sempre pensa che riesca ad affrontare un tipo di discorso così, nel mio caso il carrello uno pensa che ci sia un uomo dietro ad affrontare questo argomento. Quindi va a cercare l'uomo? Va a cercare l'uomo, ancora adesso a volte capita, però io mi destreggio bene. Un pezzo alla volta, un punto alla volta si va a togliere questo tabù che lo diciamo è cultura, soprattutto prima di lavorare sull'economia, è un aspetto culturale e quindi mi piace anche poterlo raccontare. Sapete che anche a fine novembre 2023 abbiamo raccontato su Telemanto a come oggi sia in provincia, non parliamo dell'Asia o dell'Africa, qui ancora molto molto marginale il ruolo delle donne ai vertici, quindi bisogna anche lavorare su un tema culturale, prima ancora che imprenditoriale. Giovanissima anche Anna nella partenza di questa storia, sbaglio? Sì, giovanissima nel senso che comunque sono imprenditore a tutti gli effetti da sei anni, nel senso che io comunque ho ereditato l'azienda di famiglia. Sì, lo dico agli amici di casa, parliamo di due storie che subentrano ad aziende di famiglia, non che hanno creato da zero. Sì, ecco non siamo nuove aziende ma siamo subentrate, diciamo che appunto da sei anni sono in autonomia, quindi imprenditrice, dopo imprenditore e imprenditrice non è... Sceglie chi lo dice, a me piace l'abitudine femminile, però insomma non voglio forzare. Sì, e diciamo che comunque è una cosa che si può fare, diciamo che l'esperienza, adesso io ho sempre in azienda anche mia madre, quindi proprio siamo 100% femminile, e il fatto di... non è una resistenza, ecco non è un problema, diciamo facciamo tanto quanto gli uomini, cioè a me poi non piace differenziare questa cosa. No, ma infatti non bisogna anche o mai... Cioè, siamo esseri umani con le nostre competenze, particolarità, peculiarità e siamo in gamba. Difficoltà in partenza ce ne sono state? No, sul fatto di essere donna... Di subentrare in quanto appunto donna... Ma no, in realtà mio padre avrebbe voluto anche mio fratello in azienda, poi per una serie di vicissitudini, sono io, ma nessun pregiudizio. Meno male, posso dirlo, talvolta la buona notizia, perché spesso... Un po' di apertura, ecco. Certo, cogliamo anche queste buone notizie. Prima di andare nel dettaglio, anche nella seconda parte, su App Industria, racconteremo anche come entrambi fanno parte del Consiglio Giovani. Chiedo però, il punto di vista, è in crescita il numero di, per il vostro osservatorio, di ragazze, di donne giovani in imprenditoria nel Mantovano? Rispetto a 5-10 anni fa, ne vedete di più, ce ne sono di più? Secondo me sì, ce n'è qualcuna di più, però credo che comunque gli imprenditori, parlando di seconda generazione, è vero? Anche, certo. Non trovo tantissime nuove imprese, sono tutte aziende, diciamo, storiche, consolidate, che portano avanti la seconda generazione. E poi, quindi, indifferentemente, con gli imprenditori lungimiranti e con una certa apertura, come è stato di mio papà e quello, diciamo, di Elena, noi nel Consiglio abbiamo una prevalenza femminile. Questo è già un punto di riferimento da non dare per scontato, mi viene da dire, perché, insomma, è un buon segnale verso il futuro. Sì, diciamo, non ci sono... No, siamo una buona forza, un buon numero, una buona forza. E le vedete, tra poco andiamo avanti con loro, Elena Costa e Anna Suppino, cerchiamo di cogliere anche l'ottimismo, le buone notizie vanno condivise. Tra poco, Forum Economia, andiamo avanti. Grazie. 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 Ben tornato e ben tornati, siamo a parlare, Con Forum Economia, di quello che è la Giovane Imprenitoria a Mantovana. Gli sguardi al domani, all'oggi, in realtà, con Anna Suppino e Elena Costa, eccole qua, entrambe in gruppo Giovani Op, Industria, la Presidente, Anna Suppino, e la Consigliera Elena Costa. giovanissime, quindi cerchiamo di capire anche come la loro esperienza può essere utile nel raccontare questo momento storico. Io ho citato anche nella prima parte il ruolo di App Industria, spesso abbiamo ospiti in forum economia esponenti delle associazioni di categoria e anche il definire il ruolo che oggi deve avere, dovrebbe avere a un'associazione di categoria è un nostro compito. Voglio capire da chi le vive, in questo caso App Industria, Confimi e Mantua, gruppo giovani, come vanno definite oggi? Ben capito che è un mondo che negli ultimi anni è cambiato tantissimo e sempre più in maniera rapidissima, l'associazione di categoria è un ancora, un riferimento, cosa deve essere? L'associazione di categoria dipende dall'associazione di categoria. App Industria per voi cos'è? Esatto, diciamo che è un'opportunità, io la definirei proprio un'opportunità per tre motivi, ma rifletto anche su questa domanda, una è una questione operativa, nel senso che tu chiami in associazione, hai una problematica aziendale e loro ti supportano, quindi hanno proprio una risposta o ti aiutano a trovare una risposta, una soluzione a un eventuale problema e sono sul pezzo, quindi tu sei un problema, con loro trovi la strada per una risoluzione. Una spalla sicura? Sicuro, sì, è un punto di riferimento. L'altra invece è una questione proprio associativa di apprendere, di imparare, nel senso che ovviamente noi anche con il gruppo giovani facciamo almeno una visita aziendale ogni due mesi, dove andiamo a visitare gli stabilimenti produttivi, andiamo a vedere gli uffici, gli imprenditori ci dedicano del tempo, quindi noi qua parliamo e impariamo. Un altro posto anche dove comunque confrontarsi con persone affini, perché ovviamente se io parlo con persone che hanno le mie stesse problematiche è un confronto un po' alla pari, si prendono spunti per fare meglio. Tra l'altro un'altra cosa molto bella che abbiamo fatto con App Industria, siamo andati a Bruxelles, a Bruxelles al Parlamento Europeo. Da dove tutto nasce, l'ha detto, perché oggi se non si parla di Europa nell'economia va sottovalutato tutto il contesto se non è quello il riferimento, quindi insomma è utile ma è anche doveroso esserci. Bellissimo però perché proprio siamo partiti in aereo con il gruppo giovani, siamo andati a visitare il Parlamento, siamo stati ricevuti da un onorevole, abbiamo avuto possibilità di confrontarci, ovviamente sempre per quello che si può fare in un determinato contesto. Però anche lì confronto, dialogo, avvicinare le distanze che talvolta sembrano insormontabili con l'Europa, qui no. E il terzo invece è che abbiamo comunque una rappresentanza nazionale, quindi ci permette di portare la nostra voce anche diciamo a Roma o alle istituzioni. Quindi confronto con colleghi, con anche magari storie vicine e lontane che possono essere di spunto. E in termini giovanili come vedi Elena il riferimento di App Industria, il riferimento associativo? Allora io sono entrata in App Industria circa quattro anni fa ed è stata Anna che mi ha spinto a fare questa esperienza e devo dire che mi ha aiutato molto perché venivo via da comunque una realtà mia chiusa ancora, quindi era tutto in divenire per me e entrare a far parte di questo gruppo mi ha permesso di avere una prospettive diverse, quindi mi ha aperto opportunità che magari prima non riuscivo a vedere. Il confronto appunto come diceva Anna mi ha permesso anche di capire chi come me stava affrontando determinate cose e quindi vederle insieme come affrontarle. e sicuramente mi sono portata e mi sto portando a casa tuttora un bagaglio personale molto molto importante. Quindi credo che l'associazione di categoria App Industria, quindi comunque il gruppo di giovani dove noi siamo all'interno e ne facciamo parte sia molto molto importante. Spesso anche nella comunicazione va in qualche modo rimarcata questa rilevanza perché non vorrei che poi divenisse come dire prassi o venisse sottovalutata il ruolo di un'associazione che invece se funziona è determinante per migliorare i singoli, le singole storie imprenditoriali. Quindi è giusto anche da parte nostra raccontarle. Mi dicono anche che si va a rinnovo fra poco del Consiglio. Sì, il 21 marzo ci sarà diciamo l'elezione del nuovo Consiglio, faremo un evento ovviamente perché noi cerchiamo... Mi piace fare eventi, da più di gusto. Diciamo che uniamo l'Utile al Dilettegole. Ci mancherebbe, dove fate l'evento? Allora, saremo a Viadana, ci ospiterà Palm, che è sempre un'azienda associata e diciamo Andrea Barzoni fa parte del nostro Consiglio. Quindi all'interno di un vostro abitato naturale andate a rileggere il Consiglio. Avremo il professor Gubit che verrà a parlare di passaggio generazionale, quindi quando noi creiamo gli eventi non facciamo solo festa, cerchiamo sempre di dare anche un contenuto. Dico così, col sorrido sull'Ava saluto anche Giacomo Cicchini e Marina Stotti, li ringrazio che sono sempre utilissimi, è un bel vedere gli eventi di App Industria, lo dico. Grazie. Quindi si va, la Presidente rimette il mandato, cosa fa? Diciamo che ho superato l'età, nel senso che ovviamente ci sono dei regolamenti, per cui adesso settimana prossima... Passare il testimone, dovrà passare il testimone. Allora, domanda forse più difficile, sono sempre in chiusura. Quanto è il ricevere soddisfazioni umane, economiche, lavorative, occupazionali, imprenditoriali? E quanto è invece l'impegno che si toglie alla vita privata, parto da Elena, l'essere imprenditrice donna oggi, quanto la bilancia, dove guardiamo, dove pende? Allora, sicuramente non è facile. Io ho due bambini piccoli e quindi devo dire che ho dovuto prima prendere consapevolezza della scelta fatta, quindi di scegliere di fare l'imprenditore, l'imprenditrice. E poi ho dovuto organizzarmi, perché senza queste due cose credo che non riuscire a farcela, perché comunque i miei bambini sono piccoli, hanno bisogno delle attenzioni, hanno bisogno della propria mamma e se fino a prima di averli, comunque di essere sposata e con meno esperienza anche di quella che ho adesso, mi buttavo più a capofitto, quindi ero più concentrata solo ed esclusivamente sul lavoro, dopo ho dovuto trovare una mediazione e al momento mi sembra di essere riuscita a farlo, dopo il tempo lo dirà. Ma certo che non è da tutti, sicuramente non è una cosa da tutti, perché una scelta non può prevaricare l'altro. Mi piace anche la sincerità, perché non è facile, è facile la domanda, c'era un detto, non è mai facile la risposta. E in termini invece umani cosa ti sta dando? Perché hai pesato giustamente quello che deve essere l'equilibrio complesso. Umanamente cosa ti sta dando questa esperienza imprenditoriale? Tanta soddisfazione, tanta soddisfazione, il fatto di mettermi spesso in gioco, di superare anche i miei limiti, perché anche quello ci vuole e quindi credo che la scelta che ho intrapreso, che ho deciso di fare, mi stia dando molto, sempre con i dovuti limiti, con la consapevolezza di avere una famiglia. E a livello umano, imprenditoriale, cosa sta dando Anna Suppino? Anche il tuo percorso professionale, puoi prolungare anche ciò che ha detto lei, cioè l'equilibrio è sempre da ricercare ovviamente. Diciamo che la mia vita è 50 lavoro e 50 famiglia, perché io amo il mio lavoro tanto quanto amo la mia famiglia, quindi io quando vado a lavorare mi diverto, cioè a me piace, come quando arrivo a casa e anche io ho due bambine, una di 8 anni e una di 10, è un po' complicato diciamo far coincidere i tempi, i modi, tantissime corse, ecco, quindi diciamo ci sono dei sacrifici da fare, fortunatamente a casa ho marito e suocera che mi danno una mano, le bambine fanno il tempo pieno, quindi diciamo bisogna trovare degli escamotage per riuscire a gestire, è tutta questione di organizzazione, perché entrambe le cose mi fanno felici, quindi non potrei l'una senza l'altra. Il sorriso è uno spot al divertirsi al lavoro che non è, come dire, mai da dare per scontato a chi ce l'ha, se lo difenda, perché insomma non è da dare per scontato. In chiusura, allora, il mio arrivederci è sempre questo, il buon lavoro a tutte e due e a presto per capire anche quali possono essere gli sviluppi. Quindi chiudiamo, come in qualche modo abbiamo aperto, ci sono i dati positivi, delle prospettive positive, l'abbiamo anche capito da entrambe le visuali di Elena Costa e Anna Suppino, una chiusura, una chiosa su come si può immaginare questo 2024 per i settori di riferimento. È partito bene? È partito meglio il 2023? Nel mio settore, quindi diciamo l'arredamento per ufficio e le scaffalature industriali, quindi commercio, diciamo di attrezzature per il lavoro, siamo partiti discretamente. Quindi al momento la sensazione, cioè parlano di crisi, di situazioni nere, al momento a me non sembra così male, sempre prudente, però sono soddisfatta. Traduco da imprenditore a giornalista, discreto e prudente vuol dire che va bene. Elena Costa? Diciamo che discreto e prudente potrebbe essere la risposta, sì. Mi permetto una cosa, diciamo che le aziende quando lavorano bene la crisi la sentono un po' meno, quindi adesso non per vantarmi né per me né per Elena, però abbiamo delle aziende storiche ben posizionate sul mercato, con una certa serietà e professionalità, è difficile che, cioè deve esserci proprio crisi nera, se no si lavora. È sincerità, la prendiamo. Buon lavoro Anna Suppino, Elena Costa e grazie anche a Dapindustria per aver organizzato questa serata. La Forma Economia torna con un altro tema, come ogni settimana, martedì prossimo. Arrivederci.